Aggiungi una registrazione per il giorno selezionato. Selezioni il nodo della VBS a cui assegnare l'annotazione. Completi le informazioni richieste e confermi. Puoi modificare la registrazione del giorno, aggiungendo altre annotazioni e risorse, per altri nodi della VBS. Aggiungi le risorse del giorno. Selezioni il nodo della VBS a cui assegnare le risorse. Indichi la quantità delle risorse presenti. E puoi farlo in un'unica sessione per più nodi della VBS, salvando solo alla fine. Ok. 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 Ok.